Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi torniamo a parlare di MotoGP e lo facciamo con la consueta classifica dei top e dei flop Quindi ulteriore aggiornamento, ulteriore approfondimento sul GP di Le Mans Una gara molto molto avvincente, abbiamo visto tanti duelli, tante sportellate, tante anche manovre consentite Molto molto belle, grandi sorpassi e quindi dobbiamo analizzare ancora di più le performance dei vari protagonisti Con la consueta classifica dei top e dei flop Partendo dai top non possiamo non partire dal vincitore ossia Marco Bezzecchi Perché il nostro riccio di doro ne combina un'altra delle sue Super Betz colpisce ancora e fa sua con enormi meriti Dominando una gara che è veramente stata pazzesca nel vero senso della parola Caotica a più non posso, una gara a un certo punto quasi all'eliminazione per le cadute di tanti tanti piloti Però Bezzecchi ha sempre mantenuto la calma, ha fatto una gara importantissima Una volta balzato al comando è riuscito appunto a seminare il panico praticamente Grande, grande vittoria in dominio assoluto, in scioltezza Oserei dire una gara che riapre il campionato che sì è ancora tremendamente lungo Ma la sensazione è che grazie a questo talento possa veramente Marco Bezzecchi giocarsela a fine in fondo Non credo possa essere un vero e proprio contendente al titolo Però sai, magari queste vittorie possono essere importanti da un punto di vista dell'autostima Magari il ragazzo può veramente crescere a vista d'occhio nel corso della stagione E quindi diventare nel corso della stagione un vero e proprio contendente al titolo In questo momento ancora non lo è, però chi l'avrebbe mai detto Una crescita benavente esponenziale dall'anno scorso a quest'anno Un grande salto di qualità che ha fatto anche attirare le antenne di altri team Che adesso sono interessati al talento di Marco Bezzecchi L'anno prossimo dovrebbe questo ragazzo approdare in Pramac Queste sono le voci di mercato che girano intorno alla Ducati Proprio perché la Ducati non può non promuovere questo ragazzo Dopo questo avvio incredibile di stagione Quindi Bezzecchi in Pramac è una seria opportunità Ma attenzione anche agli altri team Ad esempio Yamaha che è sempre alla ricerca di un pilota su cui puntare per l'anno prossimo Quindi tralasciando il discorso Quartararo c'è sempre il discorso Morbidelli E quindi occhio a Bezzecchi che potrebbe rientrare in questi discorsi di mercato In ottica appunto Yamaha Però lasciando appunto questo è stata una gara veramente incredibile Una stagione mozzafiato che in questo momento lo vede a meno uno Dalla vetta della classifica piloti ancora comandata da Pecco Bagnaia Ma Bezzecchi ha tutti i motivi per poterci ancora credere E un voto positivo anche per Jorge Martin Il secondo classificato perché il nostro Martinator Prima è scivolato nelle retrovie A causa del trambusso dei primi giri Dove appunto c'è stata la penalità di Alex Marquez Però poi dopo è andato subito davanti a battagliare con un certo Mark Marquez Quindi veramente molto molto bella la gara di Jorge Martin Un gran bel passo da parte di questo ragazzo Ma dobbiamo dire la verità in tutto il weekend è stato veramente formidabile Il nostro Jorge Martin è molto molto veloce Ha trovato l'assetto giusto su questo circuito Ha fatto un bel duello veramente bello con Mark Marquez Peccato che il numero 93 di Honda si è scivolato Perché avremmo secondo me ancora potuto assistere ad altri giri Ad adrenalina pura per questi due contendenti Invece cadendo appunto Mark Marquez Lui ha detto solamente negli ultimi 4-5 giri Consolidare la vetta, la sua seconda posizione Perché dietro erano praticamente troppo lontani gli altri Però è stato veramente molto molto forte Una vera furia Jorge Martin E dobbiamo sempre sperare di vedere questo Jorge Martin Weekend dopo weekend Perché è un ragazzo molto molto incostante Un ragazzo che però se riesce a trovare l'assetto giusto È veramente una furia È un ragazzo velocissimo Il suo problema è sempre quello È molto molto incostante Come anche una furia è stata Augusto Fernandez Preferisco mettere lui davanti a Johan Zarco Nella classifica dei top Perché veramente la quarta posizione di Augusto Fernandez È stata veramente la posizione più imprevedibile di questo weekend Per me MVP di questo weekend a mani baste Augusto Fernandez ha fatto una gara clamorosa E ancora oggi non si riesce a spiegare come è possibile Che questo rookie sia finito addirittura a un passo dal podio Veramente incredibile Al di là dei discorsi sui vari incidenti Perché ovviamente cadendo Bagnaia, cadendo Vignales Cadendo anche Marini e Alex Marquez Questo ragazzo ha avuto degli aiuti da questo punto di vista Ma ha un passo veramente clamoroso da parte di questo ragazzo Veramente impressionante Perché è vero, ha avuto, ripeto, degli aiuti Però è stata una gara veramente solidissima da parte di questo ragazzo Se è messo davanti a gente come Quartararo Ad esempio O comunque altri piloti molto talentuosi Faccio il nome di Alex Espargarò Ad esempio Lui è fino davanti all'Aprilia di Espargarò Quindi sicuramente una gara formidabile da parte di questo ragazzo Gara senza senso del rookie spagnolo Non a caso questo qui è un ragazzo campione del mondo in carica Moto 2 Quindi è sicuramente un ragazzo talentuosissimo Che non vede l'ora secondo me di fare altre gare di questo tipo Però la sua gas gas è stata la prima KTM al traguardo Quindi applausi a scena aperta per questo ragazzo Veramente formidabile Formidabile anche Zarco E quindi analizziamo l'altro ragazzo che è finito sul podio Johan Zarco Molti lo sottovalutano sempre Io ricontinuo a dire in ogni video Mai sottovalutare Johan Zarco Nel GP di casa ha praticamente rubato la scena a Quartararo Si prende un podio non pronosticato Che rilancia le sue ambizioni personali E a occhio e croce Se tutti continuano a toppare una gara Sì e no Lui può secondo me chiudere a fine anno Nei primi quattro della classifica piloti Perché Zarco comunque È un pilota solidissimo Che porta sempre una vagonata di punti Al referto È vero nella seconda parte di stagione Crolla il suo rendimento Però il suo contributo lo porta sempre È un ragazzo che porta tantissimi punti al referto Diciassettesimo podio in top classe per lui Mai nessun pilota ha fatto così tanti podi Senza registrare mai una vittoria Io continuo a pronosticare una sua vittoria Da qui a fine anno Per il francese Secondo me Zarco riuscirà a sfatare Nel corso di questo anno Questo anatema Questo appunto Sortileggio Che è appunto Piombato su di lui Secondo me top di questo weekend Anche Mark Marquez Perché è vero È caduto Ma stava facendo una gara Secondo me memorabile Vedendo le performance della sua moto E i limiti appunto Di essa Secondo me Marquez Stava facendo un qualcosa Che solo i fuori classe Sono in grado di fare Un ragazzo che stava spingendo Al limite la moto In ogni settore In ogni curva In ogni rettilineo del traguardo Dove la moto Rischiava di cadere Perché era oltre i propri limiti Lui la tirava su Con un talento veramente Impressionante Con questa onda Duellare alla pari Con Jorge Martina A un certo punto Per la seconda posizione È veramente un qualcosa Di clamoroso Clamoroso Fenomeno puro Un fenomeno che Fa solo il bene Di questo sport È vero È caduto Ma sono perfettamente D'accordo Con quello che ha detto Mark Marquez Lui ha detto Durante l'intervista Post gara Se la moto Se io non spingo La moto al limite Questa moto Comunque mi porta In sesta In settima In ottava posizione Io non mi diverto Preferisco divertirmi Portare la moto al limite Provare ad azzardare Qualcosa in più Pur cadendo Magari nel finale Piuttosto che fare Una gara a Shalbad Che vale la settima Ottava posizione Questa è la mentalità Di questo ragazzo Lui vuole Portarla Tra i top Questa moto Anche quando la moto È palesamente Un flop Incredibile Quindi questa è la mentalità Di un vero fenomeno Di un vero Campione Che secondo me Se riesce a riprendersi Da un punto di vista Fisico È un ragazzo Che ci farà ancora Divertire tantissimo Top di questo weekend Anche a Lecce Spargaro Perché comunque Era fatto una gara Di tutto orgoglio Lo spagnolo Il quale dopo essere Finito in fondo Al mucchione Per via di quello Che è successo Dal primo giro Comunque è riuscito A risalire la china Acciuffando un quinto posto Che dà morale A lui E al team Visto anche quello Che è successo A Maverick Vignales Quindi un weekend Positivo Visto il passo Del ragazzo Non tanto per il rendimento Non tanto per il risultato In sé Perché è vero Davanti a sé Sono caduti Sono caduti tanti piloti Un po' il discorso Di Augusto Fernandez Però lui Comunque il passo suo Ce l'aveva Era interessante Era un passo veloce Rapido Come quello Del pilota Della Gas Gas Quindi è vero Sono caduti tanti I piloti davanti A Lecce Spargaro Ed Augusto Fernandez Però Però Il loro ritmo Il loro passo Era decisamente Migliore Rispetto a quello Dei compagni di squadra Da un lato Oppure migliore Rispetto a quello Che si attendeva Vedendo anche i primi giri Di questo Gran premio Quindi Applausi comunque Per la Lecce Spargaro Che ha fatto Una gara Di orgoglio E mi aspetto Di rivederlo A pieno regime A pieno rendimento Anche al Mugello Perché Credo che questa MotoGP Debba comunque Far conto Anche all'Aprilia Deve riprendersi L'Aprilia Deve portare Degli aggiornamenti Perché i piloti Devono Sare nelle parti alte Della classifica Perché sono piloti Molto molto talentuosi Flop di questo weekend Partiamo da Quartararo Meno male Che davanti a lui Sono caduti Veramente tanti piloti Perché altrimenti La Top Ten Credo che la vedeva Con il binocolo Se negli altri casi Potevamo dire Almeno il passo Salvava Il rendimento Di questi ragazzi A Lecce Spargaro Aveva un passo Fortissimo È vero Che davanti a sé Sono caduti tanti Ma aveva la velocità A suo supporto Stesso riscosso Anche per Augusto Fernandez Per Quartararo È ovvio che neanche la velocità Andava appunto Dalla sua parte Quindi Veramente La Top Ten In questo caso L'ha vista Solamente perché davanti Sono caduti troppi piloti Quindi è andata Veramente disastrosa Per il momento La sua Arrabbiatura Ovviamente Ha i livelli Massimi Massimi Dei suoi rapporti Con Yamaha E credo proprio Che se Yamaha Non si affretta A portare Una nuova moto Con aggiornamenti Che appunto Lo possono portare Lì davanti Dove spetta Comunque il talento Di Quartararo E credo proprio Che Quartararo A fine anno Lascerà la Yamaha Sono tanti comunque I team che secondo me Farebbero un pensierino Per Fabio Quartararo Poi magari ne parleremo Nel corso di un video Nello specifico Dove parleremo Magari anche Dello stesso Mark Marquez Però Ragazzi Io credo che Quartararo In questo weekend Non ci abbia capito Veramente nulla Come non ci ha capito Nulla neanche Jack Miller Sapete quanto io Ami comunque Miller Però Occorre anche Che il pilota Ogni tanto Cambi la strategia Quanto meno Potrebbe provarci Perché Lui non può sempre Partire a bomba Superare tutti E poi finire dietro Perché Distrugge le gomme Credo che un minimo Di tattica Comunque sia importante In questo punto Deve imparare Deve imparare tanto Perché è vero Lui è un pilota Da tutto o nulla Però Se lo esaltiamo Quando riesce A portare a casa Il tutto Dobbiamo anche Affossarlo Quando porta a casa Il nulla Perché comunque La strategia Lo porta a fare questo È molto Molto divisiva Lui deve imparare La gestione gomme Nel finale È crollato miseramente E deve imparare Da Zarco Ad esempio Che nel finale Era fortissimo Deve imparare Da Bagnaia Che ha fatto Ha vinto un titolo Praticamente Sulla gestione gomme Specialmente Nella parte finale Dello scorso anno Quindi sicuramente Il miglioramento È d'obbligo E ripeto È un pilota divisivo Il Zarco Perché lui ha una strategia Da tutto o nulla Se riesce a ottenere Il tutto Va nei top E ovviamente Se crolla miseramente E non ottiene nulla Deve necessariamente Finire fra i flop Ragazzi Questo era il mio video Top e flop Di questo weekend Ragazzi Ditemi la vostra Nei commenti Mettere like Se questo video vi è piaciuto E iscrivetevi a questo canale Se non potete perdere Gli ulteriori aggiornamenti Sulla MotoGP Nei miei video futuri Ragazzi Vi saluto Ciao a tutti Da Domenico Aversa Ciao a tutti raga